Vabbè, qualcuno ha visto il braccio dello scheletro? Sì, qua c'è un pezzo. Però chi ha te? Ah beh, sti cazzi. Meglio, lo scheletro fetish concettuale. Ah fetish, dammi il taglierino va. Grazie. Andre, mi aiuti? Sto qua. Lei ha sto coso? Tieni questo. Vabbè dai, incominciano a semigliare a delle pare. Insomma. Invece di cagare il cazzo, vieni a darci una mano. Sto cercando Rocky Horror. Non prende neanche il libro. Non il 4G. Eh, lo so. Però ho fatto degli screen. Allora, facceli vedere. Raga, io faccio Susan Saran, non ve lo dico subito. Per forza, avete i capelli uguali. Io faccio lui. Refraf. Magenta e Columbia, Nina e Nicole. E tu, Seba, Frankenfurte. Faccio questo io. Sei uguale. Dai. Ci sta la versione più sobria. Ah, quella con i guanti da piatti. Grazie mille. E io invece che faccio? C'è un biondo con gli occhiali, ma non l'ho preso negli screen. Sì, mio marito che poi gli mette le corna con Rocky. Ma chi lo fa Rocky? Oddio, raga, facciamolo fare a Coccolino. Chi è? Chi è? Lascia stare. Seba, se non lo vuoi fare tu, con i guanti, magari lo faccio io. Davvero? Sì, boh, lo vedo. Comunque devo andare. Andre. Beh, l'avevo detto. Ma dobbiamo ancora fare tipo tutto. Eh, vabbè. Ciao, mi dispiace. Ma è il capo di Paracuri. Però è il capo di Paracuri. No, no. No. No, no.